Si è conclusa con il film Diffret, Il Coraggio di Cambiare, la rassegna Rides on the Movie, Diritti al Cinema, realizzata dal Comitato Regionale per i Diritti Umani con AIACE. Dall'inizio di ottobre, ogni martedì sera, il Cinema Romano di Torino sono state proiettate per oltre 1.500 spettatori otto pellicole per riflettere sulla fermazione e la negazione dei diritti umani nel mondo. Il riconoscimento e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani e dei loro diritti fondamentali rappresenta il traguardo irrinunciabile per una società compiutamente democratica. In qualità di Presidente del Consiglio Regionale e di Presidente del Comitato dei Diritti Umani abbiamo promosso in collaborazione con l'AIACE una rassegna cinematografica con la rappresentazione di otto pellicole evocative della violazione dei diritti umani. Devo dire che anche nel nostro Paese il percorso mi sembra ancora tortuoso e quindi faremo sentire sempre di più la nostra voce come Comitato dei Diritti Umani.